Allora, è chiaro che adesso lo prendiamo Prendiamo la peggolina e la mettiamo qui Prendiamo la... non se lo vuole più andare Guarda la peggolina alla coperta, non ha nessun'intenzione di alzare Dopo non gli andava, non lo prende qui Perché sta molto bene, perché sta molto bene Bravissima, io ringrazio Mimì, chi volesse evidentemente avere ancora la possibilità di poter avere questo diagramma Mimì vi invita, se avete dell'area Giappone, che troverete come prossima bambino E quello successivo, proprio in questa ricerca Troverete l'area Giappone e vi potrà condiccere per le vostre esigenze Grazie, 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 molto bene Rimaniamo nell'ambito del Giappone e vi proponiamo un altro regato Un altro regato, grazie a Yochiko Kupo Per la pausa, la vendita di condizioni di Yochiko Kupo Che ci proporrà una particolare caratteristica